Il 24 dicembre gli uomini del commissariato di Battipaglia hanno sequestrato 50 kg di fuochi pirotecnici. Il materiale è stato rinvenuto nel corso di una perquisizione effettuata presso l'abitazione di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per commercio abusivo di materiale esplodente. Nella stessa giornata il questore di Salerno ha emesso sei provvedimenti di daspo urbano per la durata di sei mesi, cinque dei quali notificati a cittadine straniere dell'est europeo esercitanti attività di meretricio sulla litoranea di Salerno ed uno notificato ad un parcheggiatore abusivo.